Attenzione ai cani, non mordono. Il cartello all'ingresso della biblioteca di Rivergaro la dice lunga, sulle finalità della mostra. Maria Grazia, artista, attraverso l'osservazione dei cani, da sempre accanto all'uomo, partecipi più che mai della sua vita, ne ha disegnati e dipinti proprio tanti, in particolari momenti, e poi ha allestito la mostra ritratti da cani, sguardi dell'anima. Ha illustrato il tema, cani con gli occhiali da sole, solo o in compagnia, solo o in compagnia dei padroni. La mostra, a dir poco, ha avuto un successo davvero eccezionale, neppure Argo, Fedele, oltre la morte di Ulisse e i cani da caccia di Dürer hanno visto tanti visitatori. Chiacchiericcio intorno ai cani dipinti, saltelli di quelli vivi e vivaci, festeggiati per la disinvolta presenza con tanti crostini e prelibatezze. La mostra è una vera e propria celebrazione artistica dell'amatissimo cane. Per tutti uno scambio di conoscenza delle razze, le testimonianze di un rapporto sempre più stretto e confidenziale tra uomo e cane. E brava l'artista, ha saputo animare e rivergaro tutto il paese, far comunicare la gente, mica roba da poco. Grazie a tutti.